Rocco Scalingi si conferma sindaco di Sperlonga. Il primo cittadino uscente supportato dalla lista Cusani ha visto crescere il consenso. Nel 2006 era stato eletto con il 68,3 per cento dei voti, ieri con l'80 per cento. Alle urne sono andati 2.424 Sperlongani, il 75 per cento degli aventi diritto, meno dell'81,5 del 2006. 42 le schede bianche, 79 le nulle, nessuna contestata. Una vittoria netta e senza scuse quella della lista Cusani. Gli elettori dunque hanno premiato la continuità, infatti tranne Gerardo De Vito che non si è ricandidato tutta la giunta è stata eletta. Oltre a Giuseppe Maric sono stati premiati dagli elettori Tony Di Simone, già assessore alla pianificazione, assetto del territorio sviluppo economico e Francesca Antonio Faiola alla programmazione, bilancio, finanze e tributi. Siamo con Rocco Scalingi, rieletto sindaco di Sperlonga, un risultato pubblicitario? Certamente con l'ottanta per cento nei confronti del 2006 che ho preso il 68,6 per cento e oggi l'ottanta per cento vuol dire che il popolo ho lavorato bene, io e la mia squadra. Un risultato importante sarà un'aggiunta quindi all'insegna della continuità? Sicuramente e anche fa parte del mio programma, tutto da continuare, tutto quello che abbiamo lasciato sarà portato avanti.